Il discorso che facevamo anche all'inizio anno è chiaramente l'assenza di un'alternativa in più. Quando tu vai a scegliere, oggi non scegli più su tre o quattro ragazzi, ma scegli su un in meno. E per caratteristiche, anche per situazione, è iniziata la grande, sia nazionale che con noi. Quindi chiaramente è un'assenza che peserà molto. Chiaramente noi abbiamo qualcos'altro, quindi sicuramente noi puntiamo molto su quelli che abbiamo. Inizialmente dicevamo che davanti era un reparto molto affollato e per fortuna, diciamo oggi. Ma il discorso di svincolati è molto particolare. È chiaro che non c'è nemmeno un giocatore che dici che è lì da prendere, prendiamolo, che ci può dare una mano. Non c'è secondo me un giocatore da prendere. Io non ho chiesto niente, perché sulla carta ti ripeto, sono sereno, sono sincero. Io sono contento di quelli che ho, noi siamo contentissimi dei ragazzi che abbiamo. Abbiamo Tuminello, non c'è più, faremo con i nostri, ma ci dispiace per il fortuna, come dicevamo prima. Però noi siamo contenti, sia di Magnolo e di Borrelli. È chiaro che dobbiamo fare per forza, senza Tuminello, senza piangerci addosso. Allora, Greg è entrato appunto a Cosenza in quel ruolo, facendo bene, oltre che fornire l'assist per il gol, però è un giocatore che ha ricoperto quel ruolo anche in passato, l'anno scorso. Non per sbiarvi, ma comunque lo stesso Macin e lo stesso Memu possono giocare in quel ruolo, per quanto mi riguarda. Sicuramente Greg è un giocatore che anche per il passato recente ha fatto questo ruolo, quindi probabilmente è lui il giocatore che giocherà lì. Cambia, cambia, intanto fisicamente. Palmieri è un giocatore diverso completamente da Castanos. Entrambi hanno tantissima qualità, entrambi verticalizzano. Cambia, cioè se avessi messo un giocatore più di quantità, allora sarebbe cambiato. Secondo me, come qualità, cambia poco la loro disposizione al gioco. E' chiaro che a nove punti tutti meritati, quindi complimenti a Lentella perché comunque ha fatto un inizio di campionato ottimo, perfetto direi. Ha delle caratteristiche ben precise, un po' come il Pordenone, è una squadra che si rifà molto a gruppo dell'anno scorso. È una squadra molto solida, molto compatta, ordinata, ha velocità davanti appunto con Mancoso. Schenetti è un giocatore molto particolare, molto bravo dietro a cucire tra centrocampo e attacco. Quindi è una squadra molto 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 ben allenata appunto, quindi è una squadra molto difficile da affrontare. Non abbiamo ovviamente paura, quindi ce la giocheremo come giusto che sia, però chiaramente abbiamo grande rispetto di questa squadra che ha battuto Cremonese e Benevento.